Io sono d'accordo con il governatore Toti, nel senso che ogni regione deve caricarsi della quota che è stata stabilita. Ma Toti, a mio avviso, ha posto con evidenza il problema. Non solo non possiamo più accoglierli, ma non devono più arrivare, perché il problema di oggi non si risolve polemizzando fra di noi su dove distribuirli. Il problema si risolve non facendoli avvertire. Lo stesso Toti l'ha detto alla fine della sua dichiarazione.